ecco le nespole giapponesi della mia pianta sono buone e succose queste sono ancora un po acerbe che sono verdi queste che tendono all'arancione sono buone guardate quante me ne ha fatte quest'anno pieno 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 fin la non c'è arrivo grazie Buongiorno. Zanzara Zanzara Mosquito Cadute Cadute Zanzara 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.